Dopo l'esclusione di 110 bambini presenti in graduatoria, il dibattito sull'apertura di ulteriori asili nidoestivi nella città di Pesaro è arrivato fino all'aula del Consiglio Comunale. Lo ha fatto prolungando le schermaglie politiche che da settimane accompagnano la tematica, ma senza garantire quelle risposte certe che aspettano le famiglie. Da un lato il jacuzzi della mozione di Giulia Marchioni e Dario Andreolli su un servizio per le famiglie non adeguatamente considerato nei capitoli di spesa e dall'altro il filo diretto con un'amministrazione regionale pronta a supportare il tutto con stanziamenti dedicati. Lunedì sera però non è arrivata la risposta sperata su un'apertura di un quinto plesso estivo con l'assessore Camilla Murgia che ha difeso lo stanziamento di 500.000 euro per dare risposta a 147 bambini dei nidi e 248 bambini delle materne. Intanto nelle consiglie comunali di ieri è stato approvato con 21 voti favorevoli e 7 contrari la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che sblocca i contributi per l'intervento da 3 milioni e mezzo per la scuola Anna Franche e quello per gli impianti sportivi che consentiranno di procedere alle coperture delle tribune dello stadio Benelli e del campo da rugby Toti Patrignani. Per l'assessore Nobili si tratta di uno sblocco che mantiene il bilancio in ordine riuscendo a rispondere anche al caro Energia. Fra le interrogazioni in consiglio comunale spiccate invece la risposta dell'assessore Alfari Riccardo Pozzi al consigliere Riccardo Biagiotti. Interrogazione che fu anche documentata da Rossini TV in merito al contenzioso fra il comune e la società Porta Cappuccina per l'acquisto dell'area parcheggio fra stazione e cavalca ferrovia di cui Porta Cappuccina è proprietaria. Pozzi ha confermato che ci sono 515 mila euro già stabiliti per l'esproprio e ha sottolineato come non ci sia stato alcun cambio di volontà di acquisire l'area così come non è stato scritto da nessuna parte di voler procedere all'acquisto diretto. In ogni caso resta un procedimento in corso in cui il comune è stato citato per danni e in attesa della sentenza.